Centro Ufficio, Viale Teseo Tesei a Porto Ferraio Quercioli. Nel suo intervento il vice sindaco Roberto Marini ha sottolineato la forza che le aziende del Bane hanno dimostrato in questo momento di crisi. Ho vissuto un periodo, un periodo che in qualche modo le cose andavano in un modo un po' diverso. Noi eravamo imprenditori, ma eravamo imprenditori un po' così, diciamo, distinto, però chiaramente bastava avere tanta volontà e si riusciva a fare tante cose. Vedendo qui tanti giovani che bene o male si sono messi in questa avventura, mi fa molto piacere perché significa che il suo gente è veramente in gamba. Grazie a nome di Marco, Fabio e Chiara che non sono qui. Quello che hai detto mi fa molto piacere perché è proprio quello anche che l'azienda vuole trasmettere con il lavoro e con la passione che mette nel creare i profumi. Grazie ancora. Faccio i complimenti a tutti gli imprenditori presenti e a tutti coloro che comunque non sono qui ma hanno reso grande l'Elba e in un momento di difficoltà come quello che abbiamo attraversato questo momento di crisi economica internazionale, l'Elba grazie a braccia forti come le nostre, a spalle grandi, a retto.